22.04, Fabio Aliboni, capitano della Lucchese con noi, prima di andare a pubblicità, hai detto una cosa molto bella Fabio, io sono venuto qua dal primo giorno, era il luglio del 2011 forse, 2011, 2011, 2012, 2013, sono venuto qua con un solo obiettivo, di portare la Lucchese nei professionisti e quindi questo sarà quello che proverò a fare fino alla fine, insieme a tutta la squadra. Ma negli occhi dei tuoi compagni leggi questa determinazione? Assolutamente, perché sappiamo quanto è importante vincere questo campionato, perché come abbiamo detto prima, con la nuova riforma sarà come vincerne due e poi vincere qua a Luca è diverso che vincere da un'altra parte, perché riporteremo la Lucchese dove merita tra i professionisti. Certamente, fra poco vediamo le immagini del match di andata, te lo ricordi immagino, te lo ricordi bene. Prima però qualche messaggio con Giulio. Allora, questo è un tifoso che ci scrive e si riferisce alla promessa che aveva fatto Fabio, dice quella promessa che dicevo è che Fabio mi ha promesso la maglia, però non so chi sia. Allora, se è tutto qui, se è tutto qui. Certo, certo. Stefano da Sant'Angelo ci scrive, dice ma come sono belli per farsi notare il nostro sindaco Tambellini e l'assessore Tuccoli a Firenze per la consegna della Coppa Italia. Ora li hai scatenati. Personaggi che si sono visti allo stadio un paio di volte. Ora li hai scatenati. No, io non so quante volte si sono visti. Io in casa, quest'anno in casa della Lucchese ho perso una sola partita. Quella con la Correggese. No, vabbè. Però c'era anche con Romagna a centro quando avete perduto. No, perché poi dopo viene fuori questa leggenda che invece sono solo leggende, però al di là di quello. Io non mi riferisco a quante volte il sindaco Tuccoli sono stati allo stadio e probabilmente avranno i loro impegni e le loro cose da fare. Io mi riferisco ad un altro discorso. Tutta la querelle, tutto il casino, voglio usare questa espressione che c'è stato per mesi, per la storia delle utenze lì che poi hanno coinvolto lo stesso Lucca United indirettamente e quegli altri poveracci nel senso buono della parola della pugilistica lucchese di Giulio Montserres, anche tra l'altro stanno facendo ugualmente grandi risultati. Io mi riferisco semplicemente a questo. Poi ognuno può fare le considerazioni e trarre le conclusioni, non quelle potenti di Fabio Livoni, ma di altro genere che vuole. Giulio? Fabio, saluta la tua prima tifosa, la nonna. Devi salutare la nonna, Fabio. Ortonovo? Ortonovo, Ortonovo. Saluta, come si chiama? Nina, Nina. Ciao nonna Nina. Fabio è forte. Saluta la Nina. Questo tifoso non mi conferma perché dice che vuole una bella donna. Grande, no, mi devi dire come si chiama. Si firma lo giuventino. Allora, nonostante che sei giuventino, come disse il popolare Mu della Juve, sei un grande perché è chiaro che l'obiettivo di fondo già dal direttore è quello di mettere una bella figura femminile. Vi farebbe piacere, penso, no? E alla date ci sostegno. Ma vado bene anche con la parrucca? Eh, non credo. Fabio, oltre ad essere un grande giocatore sei veramente bellissimo. Filmato Sara. E qui non vorrei essere nel panni, se la tua donna non si chiama Sara, Sara, meglio che tu scappi. Ha detto che forse non guardava, c'è qualche bel film in televisione, qualcosa. Cos'è stasera? Giovedì? Giovedì non lo so. C'è il Napoli col porto. Non lo so. Difficile. Eh, vabbè. Questo si firma AZA75 e dice ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a riportare la Coppa Italia. Certa gente però non si faccia pubblicità con la lucchese, visto che non gliene frega assolutamente niente. Gli hai scatenati, gli hai scatenati. Alfrego Franceschini, sindaco. Alfrego? Sì, è un ragazzo. Alfrego si chiama? Un tifoso, non tifoso. Ah, perché? Ma si chiama Alfredo. Ah, Alfredo? Alfredo. Capita alfrego. Questo non si firma e dice attenti al Condor, buon uccelli. Eh, Condor sta facendo un grande campionato con la sua Fortisio. Beh, attenti al Condor speriamo anche per la Correggese, così come bisognerà stare attenti alla Massese, no Fabio? Di Tazzioli, giusto? Poi dopo ne parliamo, vediamo. Poi ci parla lui, ha detto con... No, con chi? Di Massimo. Ma non l'ha avuto? Tu Tazzioli non l'hai avuto? No, no. Tu hai avuto quell'anno lì che hai avuto? Bruno. A Castelnuovo ho avuto Bruno, sì. Poi è venuto Barbuti e poi Attilio Lombardo. Ma è stata una stagione spettacolare nel vero senso della parola. Poi a novembre soprattutto arrivò il signor Girotti, si presentò con... Sì, poi avevamo quattro punti penalizzazione. Sì, sì, un cappotto color cammello che dicevamo, ma questo dov'è? Un attore è uscito da qualche film. No, ma non mi piace neanche più parlarne perché ormai non c'è più la storia, è quello che è successo e storia, quindi. Giulio. Quando c'è il mister, giro canale. Era un messaggio. Quando c'è il mister... Ah, l'intervista del mister. E allora quando sarà qui quella sera non ci guarderai. Che tanto prima o poi spero che dovrà venire. Allora quella sera perderemo un telespettatore. Vabbè, no, anzi, quella sera dovete guardarci ancora di più. Grande Fabio, non vogliamo mai. Dai, domenica partita moscia, però la società vuole salire o no? Saluti a tutti. Beh, insomma, ora non so, Fabio. Io non credo che... Voi volete salire? La società penso anche... Sicuramente, come noi. Sicuramente come noi. Eh, certo. Ma anche per il fatto stesso come ci confermarono e come in qualche modo hanno detto anche quelli di Luca United, evidentemente la società si sta muovendo anche su altri fronti, no? Nella malaugurata ipotesi che voi non ce la facciate sul campo. Giulio. Non dici nulla? No. Su questo non dici nulla? Mi è finito di essere un no comment. Perché? No. Così. Pesca la manzia. Ah, ecco, vabbè. Allora, vediamo le immagini della partita di andata, caro Fabio, perché lì la lingua batte dove il dente duole, si dice, no? Tanto, guarda un po', ma sono curiosi queste cose. Anche allora c'era fracassi in panchina, perché il mister all'epoca ha preso due giornate, nel girone di ritorno ha fatto meglio, ne ha presi tre. Eh, nulla. Queste sono le immagini della partita. Tu quel giorno c'eri, sì? Sì, 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 sì. Fu un avversario tosto. All'epoca, tra l'altro, loro, c'è da dire che erano ancora, possiamo dire, avevano ancora forse qualche, non dico ambizione di vincere il campionato, però, eh? No, ma sicuramente è una bella squadra composta da ottimi elementi. L'unica cosa è che nei primi venti minuti... Prendesse due gol fotocopia. Sì. Come si chiamava? Dal Rio. Dal Rio. Abbiamo lasciato proprio spazio... Guarda, questo guarda, guarda. ...al punto più forte loro, quindi palla sul fondo e cross per questo giocatore che è molto alto, molto forte di testa, che fino all'anno scorso giocava in Serie C, e quindi lasciargli così libertà, gli abbiamo lasciato proprio il suo punto di forza e ci ha punito due volte. Poi dopo... Qui si fece male Nazareno Tarantino. Qui si fece male Nazareno Tarantino. E la partita sotto due gol, Nazareno Tarantino che esce, la partita sembra perlomeno complicata. E poi da quel momento lì, invece dopo il secondo gol, abbiamo iniziato a giocare molto bene fino ad arrivare al pareggio. Questo è il gol intanto del 2-1... Del 2-1, sì. Di Luca Cavoni. Tant'è che in campo ci guardavamo in faccia e dicevamo questa partita la vinciamo, quindi forse abbiamo commesso quell'errore lì, non so se si può trattare di un errore, però avevamo voglia di vincere la partita, sentivamo la partita in pugno, non siamo riusciti... Questo qua è il gol del pareggio di Nolè. Del solito incursore Nolè. E poi ci saranno altre 2-3 occasioni per noi. Possiamo dire che questa partita poi con quella di Mezzolara di due settimane più tardi è stato forse uno dei momenti più difficili perché avete perso queste due partite, cioè su questi due campi avete lasciato 6 punti che al momento lo dimostra la classifica, poi sono quelli che fanno pesantemente la differenza, no? Qui una grande parata di Casapiede. Sì, sì, era una partita in bilico che ora qua ci sono due o tre occasioni per noi che non siamo riusciti a sfruttare. Qui siamo purtroppo al patatrack finale, guarda qua. Sì, alla fine hanno recuperato una palla. Purtroppo Caponi che mi ricordo poi era disperatissimo a fine partita. Quando hanno messo una palla in mezzo così tanto per mettere, hanno calciato forte, che se non la toccava nessuno, finiva dalla rimessa laterale dall'altra parte, purtroppo ho impattato la testa di Calistri. No, questo è Caponi, non so, quella terra non ho riconosciuto che era. Senti, ti era mai successo di perdere partite del genere? E cosa si prova quando si perde una partita così? Sì, mi era successo l'anno scorso a Pistoia, a Pistoia 0-0 abbiamo perso anche lì all'ultimo secondo. Sì, sì, ricordo. Con un rimpallo, con la palla... Partita anche quella assolutamente, anche non la meritavate di perdere. Cosa si prova in quei momenti? Ti crolla un po' il mondo addosso? Ti crolla un po' il mondo addosso, sì, soprattutto perché non meritavi di perderla così e quindi ti crolla il mondo addosso perché non hai neanche 5 minuti, non hai neanche il tempo di recupero per provare a ributtare tutto sul campo, per provare a pareggiarla perché appena hanno segnato il gol hanno fiscato la fine. Era proprio finita, era proprio finita in tutti i sensi. Peccato perché insomma prendi un punto lì, ne riprendi uno, due, quindici giorni a mezzo l'ara, vabbè, sono tutte considerazioni che facciamo, però purtroppo, purtroppo quei punti ormai sono andati e mancano, bisogna riscattarci domenica, vendicare, tra virgolette, quella sconfitta domenica. Io continuo a pensare che la differenza la sta facendo lo scontro diretto. Sì, 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 certo. Perché scivolare è successo anche a loro, anche loro hanno perso con la Virtus Castelfranco, hanno pareggiato con la Fortis Juventus, hanno pareggiato in casa col Camaiore, hanno, anche loro hanno avuto un andamento, diciamo, nel giorno d'andata simile a quello nostro. I punti l'hanno persi pochi anche loro. Sì, però l'hanno persi, l'hanno persi 9 su 18, dalla decima alla quindicesima, ti ricordo, quindi siamo ora. Adesso siamo nel momento… Domenica è la decima. E io ripeto che questo Castelfranco, l'hai ricordato tu, ha partuta anche la Correggio, ha un po' questa veste di ammazza grande, no? No, speriamo che domenica la lasci in Emilia, e comunque sono convinto che se la Lucchese gioca come ha giocato contro la Panoterme, sarà piuttosto difficile anche per loro. Me ne legge un altro al volo e poi… Non si firma, dice sulla conferma di Giulio, nulla da dire, ma Pagliuca no, no, e poi no. Ah, quindi confermate Castagnoli e non Pagliuca. Eh, va proprio in modo strano il mondo, devo dire, però è così. Sì, no, speravo e pensavo di sentire ne altri messaggi, non di questo tono, però vabbè. Te li leggi correttamente. Tutti, assolutamente. Un altro? Sì. Lo scorso anno tutto coio, quest'anno la correggese, un altro anno forse il pozzacco, ma in C, quando ci venite, quindi venite significa che questo non è di Lucca. Dici? Eh, quando ci venite. Può stare a casa, che c'è, amica tutti quelli che stanno? Quando ci venite vuol dire che loro ci sono, lui c'è in C. Ah, quindi a Via Reggio, Pisa. Dici? A Pisa non ci vedono, però. A proposito di Via Reggio, dobbiamo dire che... A Pisa non ci vedono perché sono ciechi o non ci vedono? No, 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 dovrebbero vedere il segnale. L'ex rosso-nero, Igli Vannucchi, quanti anni è stata la lucchese Vannucchi, Giulio? C'è stato, ha fatto parecchio il settore giovanile nella lucchese, poi due anni è stato anche in prima squadra, tant'è che poi fu venduto a prezzo d'oro insieme a Marco Rossi, alla Salernita, alla Serie... Prima di fare la carriera che ha fatto, perché il Vannucchi è stato un giocatore che per vari motivi addirittura ha voluto quasi, dico, rinunciare alla Serie A per motivi suoi, ma insomma è stato un giocatore che per diversi anni è stato nel suo ruolo credo uno dei migliori in senso assoluto. È nulla, ha rescisso il contratto con il Via Reggio, ve la diamo come notizia perché si tratta proprio di un ex rosso-nero. Vediamo Matteo le tabelle che abbiamo preparato, allora intanto la probabile formazione noi la tiriamo giù chiaramente il giovedì sera, ecco ora magari Rajcevic fate conto che sia un po' più avanti rispetto a Tarantino e Caponi, noi abbiamo tirato giù Fabio una formazione forse anche un po' spregiudicata, non lo so, perché è chiaro che Chianese, Tarantino-Caponi, Rajcevic, forse è anche un po' difficile ipotizzarla così perché è vero che voi dovete vincere, però insomma le partite vanno affrontate anche con un po' di equilibrio tattico, no? No, sicuramente, però potrebbe essere una soluzione, dipenderà dal mister come ci vedrà in settimana e come vorrà affrontarla. Quindi diciamo non la bocceresti proprio a priori? No, assolutamente, perché sono ruoli che tutti i giocatori possono ricoprire, quindi toccherà al mister decidere se affrontarla in maniera, in che maniera affrontarla. Abbiamo messo un 4-3-3 arretrando Elia Chianese, ma un 4 mi viene in mente perché si dice che le squadre quelle che vogliono attaccare, c'è questa tesi che dice le squadre che giocano in Champions, che prediligono il gioco d'attacco, quasi spesso giocano col 4-2-3-1, ma Aliboni non è a centrocampo, è una linea Chianese-Tarantino-Chianese-Caboni dietro a Raicevic, è fanta calcio? 4-2-3-1 o 4-2-3-1? No, no, lo sto chiedendo a lui, è fanta calcio Fabio? No, quello, ora noi abbiamo sempre giocato con il 4-3-1-2, con il 4-3-2-1, questo è il nostro modulo. Ma avete mai provato in allenamento il 4-2-3-1? No, no, è il modulo che portiamo avanti dall'inizio, quindi in un momento così decisivo del campionato non si mette a fare esperimenti, quindi eventualmente può essere un 4-3-1-2 o un 4-3-2-1, 4-3-2-1, va bene. Giulio, vediamo anche le partite di domenica prossima, perché è la 28esima giornata e quando si arriva alla 28esima vuol dire che davvero ne mancano poche. Montichiari, Camaiore, Correggese, Palazzolo, Forcoli, Abano, Termal, Ceccato, Formigine, San Colombano, Imolese, Riccione, Lucchese, Virtus, Castelfranco, Massese, Clodiense, Mezzolara, Fortis, Juventus, Romagna, Centro, Fidenza. Anche domenica è nulla, è la storia del campionato, fila sulla direttiva Correggio-Lucca con la Correggese che ospita il Palazzolo e la Lucchese, la Virtus, Castelfranco. Palazzolo che è la squadra che ha pareggiato più di tutti e ha fatto 13 pareggi. L'altra tabella ce la teniamo dopo, adesso andiamo a pubblicità, poi credo abbiamo ancora qualche messaggio da leggere e poi le conclusioni di questa puntata di Curvo Ovest. Grazie.